questa mi sono registrato male questa è sempre il video di mitragliatore nuovo sempre salendo verso il monte merlino come vedete c'è ancora dentro le cose in ferro le sue staffe in ferro questo qua è l'ingresso del mitragliatore la portacolarità è questa qua in forma triangolare ok si vede qua sopra della tutta mimetizzata